buona giornata con l'almanacco barba nera oggi è il 14 settembre si celebra l'esaltazione della santa croce si ricorda anche sant'alberto il nome alberto deriva dal germanico e significa molto illustre famoso dice il proverbio per santa croce pane e noce sono nati oggi renzo piano franco califano emmy winehouse il 14 settembre 1224 francesco d'assisi in preghiera sul monte della verna riceve le stigmate le ferite aperte alle mani e dei piedi nei punti dei chiodi della croce di cristo lo accompagneranno fino al giorno della sua morte nel 1959 la sonda sovietica luna 2 si schianta sulla luna diventando comunque il primo manufatto umano a raggiungerla infine il 14 settembre 1991 viene danneggiato il davide di michelangelo un folle colpì la statua con un martello scheggiandone l'alluce e le prime due dita del piede sinistro oscar wild ha detto esperienza è il nome che ciascuno dà ai propri errori arrivederci da barba nera dal 1762 l'almanacco chiamato d'italia